Partiti in questo momento gli atleti della Cattoria Master. Pesano a presentarsi al primo passaggio in testa al gruppo, un gruppo che è ancora abbastanza unito. C'è il docente in più che faceva la differenza. Se dico a Gianni che non vai, dice andiamo noi. Ciao Anna. Ciao. Tu bene? Si. Disquisivo che non riesco neanche andare a vedermi in volta. Facciamo un voto alla mamma mia che io non ci vado e lui deve tornare vittorioso. Devi lavorare? Eh, povera Anna. Siano. Siano e con te. Vittorioso è un di più. Marelli, Anna in segreteria di Gara, grazie. Il ragazzo è un fatto di portare a roma. E il ragazzo è un buonare del PD. La media è un buonare del PD. Questo è un buonare del PD. E il padrone è un buonare del PD. Il PD di portale è un buonare del PD. Il PD è un buonare del PD. Luca, dai Luca, dai Luca vai No, finì qua. Dai Luca, che ce la fai? Respira Luca, respira! Luca, respira profondi, vai vai! Luca, che ce la fai? Vai Luca, vai bravo! Luca, siamo qui per te! Vai Luca, vai vai! Vai Luca, vai vai! Vai Luca, vai vai! Luca, vai vai vai! Luca, non ballare! Vai Luca, respira! Luca, sulle braccia, sulle braccia! Non ballare, respira dopo! Vai, vai Luca! Vai Luca! Vai Luca! Luca, sulle braccia, sulle braccia! Luca, sulle braccia! Luca, sulle braccia! Respira forte, respira! Respira forte, respira! Luca, sulle braccia, sulle braccia! Luca, sulle braccia, sulle braccia! Dai Luca, dai Luca! Dai Luca, hai un volato già, hai un volato! Dai Luca, dai Luca! Dai Luca! Dai Luca! Stiamo al finito del suo ginossono dalla cassa! Dai Luca! 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 In modo ufficioso vi diamo il passaggio come vincente di Scollo Matisse, che sarà confermato dai giudici e dai trenometristi.